ciao sono alfio bardolla e oggi sono qua a raccontarti una cosa eccezionale ti parlo dell'evento condominio in fiera ci sarà a roma il 4 5 ottobre sarà un evento fantastico dove ci sarà anche alfio bardolla training group che parlerà sugli investimenti immobiliari perché è così importante questo tipo di eventi mio nonno faceva l'amministratore condominio aveva questo palazzo in centro a follonica e aveva il suo appartamentino e dato che era uno bravo a fare i conti teneva sotto controllo tutte le problematiche di questo condominio che era anche bello grande e anche bello complesso oggi però non si può più fare quello che cerca di fare il business in modo non professionale abbiamo bisogno in tutte le professionalità sempre più competenze sempre più capacità e quindi ormai l'amministratore di condominio è diventato un ruolo iper specialistico e abbiamo bisogno sempre di formarci ci sono sempre nuove normative ci sono sempre nuove tecnologie ci sono sempre cose super importanti per cui un amministratore di condominio in quest'epoca deve essere iper formato e grazie a questi tipi di eventi si può avere una grandissima formazione e entrare anche in contatto con gli specialisti del settore per capire quali sono le ultime novità e le ultime tendenze in questo business sia dal punto di vista legale sia da altri punti di vista quindi grazie dell'invito e saluto i nostri due amici che hanno messo in piedi questo business incredibile e questa attività di formazione per l'amministratore di condominio fantastica Roberta Evangelista e Marco Quagliariello all'evento ci sarà uno dei nostri coach che vi spiegherà quali sono le problematiche dell'investimento immobiliare e anche le problematiche nella relazione con gli amministratori di condominio figura fondamentale per qualunque operazione immobiliare quindi vi aspettiamo tutti 4 e 5 ottobre condominio in fiera grazie a tutti